La Mattina Dopo Non ho dormito niente Più che altro è una delusione enorme Perché come tutti sappiamo Vai a fare l'impresa allo stadium Vai a vincere 7-0 col Torino Nel momento in cui sei Hai una fiducia enorme Quindi sei in fiducia Nel momento in cui comunque ok Non c'è Ibrahimović ma hai mezzi Per far male a una squadra Già salva Che comunque poi ne parleremo In casa vai a buttare tutto così Bastavano 3 punti per la qualificazione In Champions League Ora come tutti sappiamo Per entrare in Champions League Dobbiamo andare a vincere domenica Bergamo Contro l'Atalanta Quindi uno scenario veramente Difficilissimo E prima di iniziare a parlare Volevo semplicemente ricordarvi Di venirci a seguire su Twitch Anche perché adesso quando finirà la stagione Sul canale Milan Inside Non è che ci rivedrete alla prossima stagione Appunto a fare le reaction Ma porteremo dei nuovi contenuti Parleremo di calciomercato Di europei eccetera eccetera Quindi vi invito a seguirci anche su Twitch Link in descrizione E qua su Youtube anche di lasciare un mi piace E un commento Ultima cosa Voglio solo dirvi che Tutto quello che sarà detto in questo video Sono pareri personalissimi Quindi se non siete d'accordo Ognuno ai propri pareri E magari anche di commentare In modo tale da potervi rispondere E creare un dialogo insieme Che dire 0 a 0 Una partita orrenda Una partita che abbiamo creato Forse due occasioni In tutta la partita Voglio solo Solo soffermarmi velocissimamente Sull'unico giocatore Che merita di essere citato Che merita i complimenti E che merita Perlomeno la mia fiducia Sperando che vada bene Che è Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma Che in questo periodo è stato preso Super di mira Per la questione contratto Ovviamente non sono felice Per la situazione contratto di Gigio È ovvio Però ieri sera è stato l'unico 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 Che Ha fatto il suo Ci ha salvato Ha fatto due parate Allucinanti Se no andavamo a perderla La partita di ieri sera E quindi volevo solo Citare Gigio Per quello che ha fatto ieri sera Un altro forse Forse se volete mettere È Castilleco Che si è visto Che almeno Il cuore ce l'ha messo Perché Rispetto alle altre partite Che sembrava Una ballerina In mezzo al campo Che non faceva nulla Ieri almeno Qualche inserimento L'ha provato Qualche palla dentro L'ha messa Ma niente di che Poi tutti gli altri Inguardabili Inguardabili Tutti gli altri Sono molto deluso Perché Eravamo in super fiducia Abbiamo fatto Dieci gol In tre giorni A Torino Io Non vi nascondo Che ieri Sì ero in ansia Ma Ero tra virgolette Tranquillo Inizio partita Perché ho detto Ce la facciamo E invece È andata così Pioli L'ha preparata malissimo La partita I ragazzi Si sono cagati addosso Ma si vedeva Lontano un miglio Che erano spaventati Questi Che il tremava alle gambe Una partita del genere Tu la devi aggredire Non devi scendere in campo Col pensiero Oh devo vincere Perché se no Non vado in Champions Tu devi scordartela Quella cosa lì Devi proprio scordartela Tu devi entrare in campo Col pensiero Di fargli male a questi Un'altra cosa Che mi ha fatto girare un po' Che vabbè Oh d'altra parte Che cosa devi fare È stato il gioco Del Cagliari Nel senso Non Non che si doveva scansare Per l'amor del cielo Non voglio Non voglio che Fraintendete le mie parole Ma una squadra già salva Con la testa libera Che può giocarsi la partita Giocare in sette In difesa Ogni volta che prendeva Palla Rebic O qualcun altro Erano in sette In difesa E Se poi guardate il primo tempo Ragazzi Ogni volta che il Cagliari Recuperava palla La spazzava Cioè è stata abbastanza Una partita imbarazzante Che da parte del Cagliari Ma più Nostra Perché nonostante questo Non è questo Che ci ha fatto pareggiare 0-0 Sono state le due occasioni Forse create in tutta la partita Da noi Ieri sera è stato scandaloso Scandaloso La gestione della partita nostra Questa del Cagliari È una Una cosa aggiuntiva Che ho voluto dire Perché Mi ha dato un po' fastidio Ma non è che se il Cagliari Avesse giocato in un altro Andavamo a vincerla E per carità Devono prendere coscienza I ragazzi Che Molto probabilmente Adesso Io vabbè Come dicono i miei amici Io sono molto pessimista Ma Devono prendere coscienza I nostri ragazzi Che molto probabilmente Han buttato via La Champions League Han buttato via Un'annata Che Han fatto abbastanza bene Hanno buttato via Tanti punti Come ieri sera Come col Parma All'andata Come con l'Ellast All'andata Come con lo Spezia Come con la Samp Come col Sassuolo Capite che Aver vinto Due di queste partite Eravamo a posto Però Niente È andata così Io adesso Faccio tutte le macumbe Del mondo Per sperare In un miracolo domenica Visto che abbiamo fatto già il miracolo Domenica scorsa A vincere allo stadium Dobbiamo battere l'Atalanta L'Atalanta che è impegnata anche in finale di Coppa Italia Contro la Juventus Poi ovviamente io Sono pessimista Vado a pensare anche ai complottismi Del fatto che La Juve lascerà la Coppa Italia L'Atalanta L'Atalanta in cambio Deve battere No Lasciamo stare Non voglio essere complottista Voglio vedere Voglio vedere come va a finire Il discorso è che Abbiamo parlato tanto di finali Ma quella di domenica Sarà una finale fondamentalmente Atalanta già qualificata in Champions League Noi che dobbiamo vincere per entrare in Champions Se no in Champions League ci accederanno Juventus E Napoli Che hanno All'ultima giornata Bologna Juve Napoli E Las Verona Non credo proprio che il Napoli flopperà Assolutamente Perché il Napoli è in gran forma E non penso neanche che la Juve Con il Bologna Vada a flopare la partita Quindi sostanzialmente Non possiamo sperare In altri risultati Dobbiamo solo Mettere Cioè prendere consapevolezza Che abbiamo fatto una cazzata Ieri E che domenica C'è da vincere Sarà difficile Se non Non dico impossibile Perché nulla è impossibile Nel calcio E non è che siamo una squadretta Di Serie B Siamo sempre il Milan Che ha battuto la Juve 3 a 0 Però Serve una presa di coscienza Più che altro perché Se ieri hai giocato Con la paura Contro il Cagliari Senza Ibrahimovic Domenica Come giochi contro l'Atalanta? Super tranquillo? Non lo so L'unica cosa che mi perplime È il fatto Come hai fatto a giocare Così in maniera tranquilla Contro la Juventus Mentre contro il Cagliari Ti sei spaventato Così tanto Perché perdevi con la Juve Fondamentalmente era finita Era finita Per devi con la Juve Quindi dovevi aver più paura lì Che col Cagliari Quindi non lo so Visto che sono dei video brevi Ragazzi Mi sono già Mi sono già Allungato Nel parlare E quindi Io vi saluto ragazzi Lasciate un like Mi raccomando Passate anche da Twitch Per venire ad assistere A Milan-Atalanta Iscrivetevi al canale Qua su Youtube Attivate la campanellina E niente ragazzoli Vi auguro una buona giornata Ciao a tutti